La liberazione è successa che a un certo punto si è sentito il cannone, poi sapevamo perché le notizie circolavano anche dalle... c'erano delle guardiane diciamo che erano lì con il servizio del lavoro quindi non erano delle professioniste poliziotte ed erano quelle che spesso ci davano delle notizie che facevano un po' di amicizia, anzi una volta una ci ha regalato una mela, queste cose strabilianti e poi si sentiva il cannone quindi aspettavamo, le notizie circolavano, aspettavamo quest'arrivo degli alleati e poi un altro segnale che abbiamo avuto così abbiamo capito com'era che ci hanno mandato a vuotare la casa del fascio nazista insomma, la casa del nazismo del posto che era un villaggio lì dove c'era Auschwitz, portare via tutto quello che c'era di quadri, di stampa, di tutto e dargli fuoco quindi abbiamo detto ci siamo perché se ci mandano a noi prigionieri a svuotare la loro casa del fascio o della svastica vuol dire che proprio sono sono disperati e infatti era così solo che invece hanno resistito moltissimo questi soldati tedeschi, nessuno è scappato erano lì a sparare anche hanno fatto delle carneficine ma non lasciavano passare nessuno, sapevamo che era Dachau molto vicino e ci ha messo tre quattro giorni ad arrivare insomma e quando sono arrivati hanno aperto le porte al solito le uniche persone che sono andate via tutte erano le prigioniere per reati comuni perché le altre eravamo tutte politiche, c'erano delle greche, delle jugoslave, anche della frontiera francese dell'Alsazia e abbiamo fatto una cerimonia, abbiamo fatto una cerimonia dove ognuno ha fatto un discorso della propria lingua e abbiamo cantato tutti insieme l'internazionale perché era l'unica cosa che sapevamo tutte e che c'è in tutte le lingue e questa è stata la liberazione e anche lì c'erano i lillà fioriti anche in quel mese e poi è cominciato il ritorno come si fa a tornare? Aspettiamo che ci vengano a prendere perché noi tanti italiani si sono imbarcati da soli maschi con le carrette e cercavano di arrivare al Brennero ma in realtà dal Brennero non passava nessuno il primo Levi nella tregua era sicuramente lo racconta bene questa cosa degli italiani e poi noi invece aspettavamo ed è arrivata una missione dell'UNRA aveva un ufficiale di marina italiano, si chiamava Brengola, un colonnello non so, che si è subito preoccupato di trovarci un posto il posto è stato una caserma dove c'erano i militari italiani prigionieri che aspettavano anche loro di rientrare e quando noi siamo arrivati tutte donne su questo camion scoperto questi hanno circondato il camion, questi, un po' di questa gente, di questi militari e hanno cominciato a ghignazzare dicendo ma perché siete lì, siete delle politiche, non potevate stare a casa questo è stato il loro commento posto non ce n'è, c'era posto secondo loro soltanto nelle scuderie perché c'erano una volta i cavalli dove c'era della paglia e noi abbiamo detto no, lì non andiamo abbiamo saputo che c'era sempre sul camion questa trattativa abbiamo saputo che c'era l'infermeria e allora mi hanno detto andiamo lì abbiamo occupato l'infermeria con i letti finalmente e lì si stava decentemente però anche lì c'era un ufficiale medico che diceva quelle storie voi, noi ne abbiamo passate anche noi come prigionieri militari quindi è inutile che non potete stare qui non siete malati quindi dovete andare via e noi abbiamo detto finché non ci date la stanza non andiamo via da nessuna parte allora poi è ritornata questa lunra e aveva trovato un posto dai francesi perché i francesi sono stati rimpatriati tutti prestissimo e allora questa caserma era vuota hanno dato un posto a noi dove ho scoperto il DDT perché entrando in questa stanza stanzoni erano con i letti a castello siamo stati invade dalle pulci proprio sai le gambe nere di pulci e allora abbiamo protestato e ci hanno portato questa polvere abbiamo dato la polvere così in mezz'ora non c'era più una pulce erano morte tutte forse abbiamo respirato anche noi comunque abbiamo potuto dormire lì e lì avevamo una certa libertà non sapevamo dove andare lo stesso ma uscivamo di giorno a passeggio c'era, era a Hamburgo questo era il posto e si stava abbastanza bene c'era la cucina, mangiavamo poi andavamo spasso e tornando da una passeggiata abbiamo trovato Paolo Buffa che ci aspettava che era venuto a prenderci perché le Special Forces gli avevano dato una jeep per venirci a cercare in Germania e lui non sapeva aveva l'unica traccia era la mia lettera che era arrivata a Milano la prima è andata a Milano gli hanno detto dove eravamo ad Aisha e lui ha fatto il giro Aisha che era caserma militare e poi è arrivato lì pieno di scatolette e di roba da mangiare e niente non abbiamo abbiamo mangiato qualcosa e poi siamo partiti in jeep e siamo arrivati a Milano un mese siamo stati in Germania a aspettare ma siamo state fortunate perché noi siamo tornati così ma le altre italiane che erano con noi hanno aspettato ancora un altro mese tutto perché gli italiani erano alla fine si era alleato qualche che avevano mandato qualcuno insieme agli alleati ma erano considerati comunque un nemico non gli hanno mai perdonato agli italiani di essersi schierati con i tedeschi e di essere stati fascisti quindi era chiuso il Brennero quando Paolo è passato con un permesso speciale che avevano andato le special forces perché noi abbiamo avuto anche un riconoscimento delle special forces perché abbiamo ospitato Enrica ha ospitato Paolo e Paolo Petrucci quando sono stati calati col paracadute sbagliando insomma quindi anche quello era un merito perché avremmo anche anche quello era un rischio insomma e così siamo arrivati il 2 giugno a Milano piena di 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 della malattia della pelle che avevo già avuto e niente vabbè le medicine c'erano e me la sono tolta e poi e poi dopo il dopoguerra non è stato divertente neanche quello